bentornati nel canale delle burneo bentornati in feast of the north star lost paradise per chi non sapesse ken il guerriero una versione rivisitata da parte di siga del famoso manga anime di okutono ken il guerriero entriamo allora l'ultima volta avevamo svolto un combattimento al colosseo della città di eden recuperare praticamente la nostra libertà e poter così cercare notizie su iuria all'interno della città e proseguiamo da quel punto lì infatti il capitolo 3 si chiama il omen allora posso scegliere delle domande riguardo vedi guarda che stanno riguardo lui riguardo yuri ma riguardo a eden tell me more about eden fine guess you're wondering what's called that well i don't know who said it first after a while even was just what everyone called it like the garden so people see this place has some kind of paradise i don't know about paradise but we got resources to spare thanks this fear city right nearby sphere city see that hole in the mountain next to here you're looking at fear city that set of buildings inside the dome yeah it's some facility from back before the war i guess i don't know the details but the thing still works we get a lot of water out of those pipes still generates electricity too some kind of energy plants from the old world that's my best guess too but there's laws against prying too deep in this fear city and how it works and obviously the place is off limits it seems like it's under a lot of security better just let the thing keep doing this job long as it keeps us alive the watch will protect it so that's where this city's prosperity comes from you get all your resources from that thing that's right ok riguardo ho capito facciamo domande riguardo a kisana tell me more about that kisana woman who exactly is she hey watch our fucking mouth kisana the ruler of eden she's the holy maiden show some god damn respect it's lady kisana to you but not to you you just call her by your name are you two together what no we just go way back i knew her and lord nadai from when they first started building this place up nadai kisana's dad after the nukes he was the one who discovers sphere city he's the founder of eden so it all began with him he was powerful smart kind to everyone a stand-up guy and a great ruler but three years ago he just died out of nowhere so kisana had to take over ever since then she's been the ruler of eden i see lord nadai made our walls started the town watch gave us everything we needed to keep the evil out evil yeah like the inmates you fought in the games or those thugs that raid villages on the outside a couple years ago this pack called the army of ruin showed up but waiting us ever since what we could take them who gives a shit about some stupid army of bandits ok abbiamo scoperto che il fondatore è stato il padre di kisana che si chiama nadai che però si crede si pensa che sia morto da anni e kisana ha preso il suo posto ha tenuto il posto pulito buttando fuori il male ecco poi facciamo riguardo jagre riguardo lui so you're the captain of the city watch got that right that's how the people around here know me captain jagre top dog of the watch why did you come to this city my folks needed food and water pretty simple your family's here then not anymore ma and my old man are long gone i'm the only one left i see i joined the city watch about three years ago i protected the peace and worked out like crazy and that got me all the way to the captain of the watch hmmm was it easier to get in the city back then you said your whole family got in yeah back then it didn't even have a gate no watch either more of a settlement than a city but then lord nadai set up laws and formed the watch to enforce him then came the walls and gate that was the real beginning of eden i guess and after that the city restricted entry from outsiders you probably heard but anyone can enter as long as they got some special permit from kisana but we got too many people looking to get a piece it was either restrict entry or run out of resources do you know anything about a woman named yuria yuria no the lady you're looking for hate to say it but i've got nothing you sure she's even here why wouldn't she be i mean the watch keeps a real close eye on the city who comes in who goes out if this yuria lady really got in and i'd have heard about it she'd be in a report or something and you haven't heard anything like that in the past year all i've seen are a bunch of doctors couple of carpenters some merchants and punks like you when i got to throw in jail right all right come on can't stand around talking with the story take all god damn day follow me this way can come on and then praticamente non sappiamo nemmeno se yuria sia qua visto che lui si occupa di tutte le entrate d'uscita ma al momento sembra che non sappiamo un tubo che grosso che si che infilo cazzo dai due ore muovi dai wait up muovite no fate una mossa ti sei lento all right we're here what is this it looks like a church this is kisana's place basically they call it the cathedral and it's the center of all eden this is where kisana deals with the people's requests makes decrees and all that government shit all those folks lined up they're waiting to see kisana every day she gets hundreds of people coming to her for advice and she really listens to them all of them they wouldn't be calling her the holy maiden if she wasn't so devoted to making them happy that makes sense and over there that sphere city a city within a sphere okay real psyche what's this statue oh that's lord nadai Il padre di Kisana. 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 Ok abbiamo sbloccato questa e poi abbiamo sbloccato questa e poi ne ho due gialle e una bianca anche della verità. Il padre di Kisana. Il padre di Kisana. ha messa di Kisana. Il padre di Kisana. Kisana. Il padre di Kisana. 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 Ah Ah Yeah Ah Hmm Vabbè venga da 50 cose per casinò Vabbè Vabbè per rispetto Non venga da blackjack Che se vale i giochi Vabbè grazie ma non mi interessa Al momento Gavrà a trovare i ladri Gavrà a trovare i ladri Che non sarà facile Dove cavolo si andrà e stila Druncoli del cazzo Vabbè il casino l'abbiamo visto Vabbè andiamo da Vediamo se sono gli stessi Sano da questi Sano da questi What? Hey Vabbè Il massacro La gente viene anche a vedere Verso i ruffiani Perfetto Ruffiani che ho fatto pure Ruffiani che ho fatto Ruffiani che ho fatto solo Ok, abbiamo massacrato i luffiani Ok, vabbè, qua posso salvare, come sa che salverò, però non ho a trovare i ladri della donna Ok, cos'è qua? Non piace gente da far solo, mi sa Eccolo qua, quello del portafoglio Ok, cos'è lì, lì, lì Hey! Oh, sei l'ultima chance, non pica capire, sta dando a me l'ultima chance Cosa? 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 Non lo so, non lo so, non lo so. Oh 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 Cosa è l'ultima? Cosa? 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 T'ho spavolato tutti Cosa? 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 Si Si Ha 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 Hmm What? What? Ah non ti muovere finchè non arriveranno Ok ho libutto nella borsa della signora se la riporto Esatto segui le regole Vai a fare anche tu i combattimenti Non ci credi? No fai quello che vuoi What? What? Ciao Ha 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 Muoviti dai vediamo Ha 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 Non sapevo questo palla Ah E' questa vista però eh No non vado da quello del casino Devo andare dalla signora A portargli i soldi Adesso dov'è dalla signora Mi pare che la rifuono Mi pare che la rifuono Ha 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 Qual è questo? Hmm Sì Huh? No 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 è talisman shopper mi fa vedere il talisman no beh insomma hai capito che sono un condottiero per la pace per fama o per gloria o per altre cose insomma dai due ore dai dame sta cavolo del talisman ah questo che sa qualcosa su julia dai 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 è la mano del destino Sì Ho bisogno di 10.000 monete però Vabbè, poi ce ne sono altri Dei sentarti ma che mi creda mettere in 100 people complaining certe parti della storia Non è necessario il quale puoi trovare vari posti Tra i truppi all'ound, ok? No Non ti c'è Le rio Allora Allora ok quindi posso selezionare me lo metto qua ok quello di sugar se vado i talismani diamond ok lo ha detto a lismani che se io da l'amica questa qua fa scarabella ok la giovane Luria ok continua qua se ti fai l'icona dove sono tutti questi al momento ma vedete questo qua posso averlo o no bisogna fare 5.000 monete in SM vabbè ciao vecchio mio vabbè andiamo fuori devo portare i saldi a una sigana anziana dai esatto è quasi il momento la parola la parola la parola è quasi il momento non mi pareva che la signora ti andava qua perchè qua posso salvare quasi il casino no la da la orde qua voglia porco mi fermate qua la signora eccola qua dopo salvo ragazzi e ci vediamo nel prossimo video oh ho avuto la volta per me? grazie oh grazie tanto tanto Kinshiro, i ragazzi mi hanno detto tutto cosa stai cercando di fare? faccia la scuola sembra male? ho dovuto tornare per lei questo ragazzo mi ha scoperto capitan Jaggeray non ha fatto nulla ragazzi, ho bisogno di farlo oi non hai scoperto dei miei ordini e riusciti a distrarre la pace ci sono delle conseguenze per questo cosa è questo? questo è l'allarme l'armi di ruine è qui abbiamo bisogno di arrivare alle porte le persone possono essere in pericolo tu stai qui e aspetti fino a che li ho scoperto capito? questo è l'armi che aveva parlato prima vabbè ragazzi prossima volta andiamo lì dove forse dobbiamo dare un casino credo ma intanto io salvo qua e ci vediamo nel ok ho salvato ragazzi la prossima volta ripartiamo da qui e dobbiamo andare su quel punto lì vedete quello viola che mi sta indicando da sicuramente dovrà andare di qua vediamo dove ci porta e ci porta qua va bene facciamo la prossima volta nel frattempo restiamo qui vi lascio con un salutone a tutti Ciao, ciao.